Aldo racconta una serie di video YouTube rappresentante la mia vita dal titolo dal titolo il mio lieto vivere guardare in questo momento io dove sono è primavera una primavera del 2021 per in mezzo in me un senso di vita di vita anche se siamo in un lockdown qui è 50 metri di casa mia vado a vedere esattamente un bel prato giallo giallo perché giallo è il mio colore preferito fin da bambino amavo io quel colore lì anche giallo attualmente significa entrare in zona gialla sebbene forse fra qualche giorno andiamo in zona arancione ma poi ma poi andremo in zona gialla ed è possibile viaggiare oggi mi sono fermato qui diciamo pure erba di casa mia sì questo bel colore predominante nel mio occhio visivo che favilla il mio sguardo che piace guardare guardare com'è bello denominare un senso di vitalità con questo sentiero canto percorribile a un punto ben definito al centro di Baggio ma qui sono esattamente spostato a vedere i prati circostanti di questa bella zona del municipio 7 sempre Milano ecco qua che mi avvicino al mio occhio dove il giallo è senso di pazzia diciamolo pure però piace mi piace e guardo intorno gli alberi oggi vi faccio una serie di video del mio oglietto vivere come intitolato prima che imprime a me la voglia dei colori sì forse perché sono innato pittore ma mi piace questo senso di colore della natura e ogni prato al suo specifico colore dato che sono residente nella zona di Porta Garibaldi mi hanno detto che c'è un bellissimo bellissimo prato in piazza Gaulenti primaverili con colori diciamo pure la parola multi etnici di diversi colori magari verso sera posso raggiungere quel luogo lì ora vi saluto da questo bello youtube in zona gialla